Salve amici del Centro Meteo Italiano. Vediamo con gli ultimi aggiornamenti dei modelli quale potrebbe essere l'evoluzione meteo per la prossima settimana. Terzo weekend del mese caratterizzato da una spiccata variabilità a causa delle correnti occidentali che interesseranno il Mediterraneo. Giornata di domenica che dovrebbe vedere il transito di una piccola goccia fredda sui settori alpini, associata ad un minimo di pressione al suolo sulle regioni del nord, dove non mancheranno temporali anche intensi. Elevata incertezza già all'inizio della prossima settimana con il modello GFS che propone due gocce fredde sull'Europa e un promontorio anticiclonico in risalita proprio verso l'Italia. Tempo che potrebbe tornare però a peggiorare tra la seconda parte della settimana e l'ultimo weekend del mese, a causa dell'avanzamento verso est della circolazione depressionaria presente sulla penisola iberica. Non ci resta dunque che invitarvi a seguire come sempre tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.